Impiegherò un solo minuto. Sull'ultimo aspetto ricordo al consigliere Figliomeni che ovviamente non stando in commissione non può essere al corrente o forse non è stato informato correttamente che sui criteri che devono essere utilizzati sulle priorità, era presente anche il segretariato quando abbiamo stabilito queste modalità, la commissione ha deliberato all'unanimità quale dovessero essere i criteri con cui procedere, per cui anche con la consapevolezza e il supporto del segretariato abbiamo indicato per esempio nell'anzianità oppure nelle sentenze dei criteri che dessero all'amministrazione la priorità su come lavorare i debiti fuori bilancio e credo che questo sia stato portato avanti con serietà dagli uffici. Grazie.